ciao a tutti come state sono di nuovo qua perché vi voglio far vedere le cose che mi sono arrivate volevo fare una diretta più programmata ma di programmato nella mia vita c'è più quasi niente perché sono troppo troppo ci sono troppi impegni sempre adesso invito qualcuno come state voi cosa state facendo ora di cena come al solito ma io oggi pomeriggio ho avuto un po di impegni ora vi racconto scusate un attimo spero di non dimenticarmi qualcuno ma sicuramente invece sarà così perché poi me le sono anche scritte qualcuna è solo che non voglio mai far durare troppo questa parte dei video perché insomma se mai non me ne vogliate non è che non vi penso però magari io scorro e le persone che vedo invito diciamo così perché se mi devo se mi metto a cercare tutti poi non riesco più a uscirne però se venite tutti in diretta io sono contenta ovviamente intanto ci stiamo poco perché è proprio una diretta flash mamma mia potrei invitare tutti ma vabbè ragazzi tanto se siete in diretta se siete ciao luisa eccola se siete collegati vi arriva la notifica e se mai ve la riguardate se volete e io oggi abbiamo insomma oggi abbiamo fatto i biscotti con i bambini ci siamo collegati con le amiche e grazie per i cuoricini e quindi abbiamo anche preso il diploma poi vi metto le foto ma è che carino l'abbiamo fatto questo qua di Elia e questo qua di Gabriele Elia e Gabriele e abbiamo fatto appunto questi biscotti tutti insieme ciao Carolina piacere di amarti qua e niente quindi ci siamo un po divertiti in realtà abbiamo messo su quadro la cucina ma pensavo anche peggio in realtà c'è la nostra coach Carolina che è sempre bella pimpante io anche sono contentissima questo mese sono proprio super carica perché ci sono tante novità in Christian Life e mi sto trovando sempre meglio quindi sono proprio contenta ora vi faccio vedere un po di cose che ho comprato ma vi volevo far vedere anche il nuovo catalogo che è arrivato vedevo l'ora e poi magari lo sfogliamo insieme vi faccio magari un video anche che ve lo faccio vedere un po meglio perché quest'anno appunto vabbè a parte che quest'anno sì questo mese scusate ma l'ora è tarda e l'azienda fa 40 anni quindi insomma ci sono un sacco di novità e promozioni e inoltre c'è un bellissimo regalo per tutti quelli che fanno un ordine e poi magari vi metto la foto ora vi faccio vedere le cose che devo consegnare allora innanzitutto allora una collanina bellissima che adesso controllo dove l'ho messa eccola qua perché sennò poi a parte che viene buio ciao Katia benvenuta viene buio guardate ragazzi fa freddissimo vi dico la verità però di fare la diretta in casa non mi andava proprio e quindi mi sono messa qua e almeno vi faccio un po di insomma c'è un po più di luce naturale mi piace di più guardate che carino e questo qua ve lo volevo far vedere perché appunto poi lo devo consegnare se volete informazioni su qualcosa che vedete me lo chiedete perché vi dico la verità non mi sono preparata molto bene per questa diretta i prezzi codici tutto perché comunque è stata una cosa improvvisata proprio grazie Katia sei troppo gentile è bellissimo questo ciao Tina benvenuta è proprio carino è un bel solitario è solitario non si chiama solitario però capitemi io stasera sono proprio ancora peggio del solito però ci tenevo troppo a farvi vedere queste cose perché sono troppo belle e se poi le consegno non ce l'ho più in mano farò due foto anche poi magari pensavo di fare un post con tutte le cose che vi ho fatto vedere in queste ultime due dirette e magari vi taggo le persone che siete venuti in diretta con me a vi taggo se vi va magari avete visto qualcosa che vi piaceva ma non vi ricordate bene potete rivederle lì ciao Tatiana benvenuta quanta bella gente grazie a tutti siete tutte sempre carine davvero e poi vi faccio vedere i regali che mi sono fatta io in realtà ho fatto un video però cioè sono troppo contenta nella mia sconvoltezza vi faccio vedere questo anello mi sono presa grazie per i cuori che sono sempre bellissima guardate che bello che è io in realtà non mi sono mai fatta molti regali devo dire la verità ciao Samantha Samantha è una mia amica con cui abbiamo fatto i biscotti prima ciao tesoro ci siamo divertiti coi bambini sì poi mio figlio vi faccio vedere quello che ha fatto è un artista Gabriele il più grande ha fatto tutti i biscotti con tutte le facce diverse vabbè e addirittura non vi dico cosa ha fatto ma poi ve lo mostrerò nel post e questo qua è d'argento ed è veramente uno spettacolo ora ve lo faccio vedere indossato vabbè ora io in realtà l'avevo preso per questo anello per questo dito poi ho provato a spostarlo però me lo trovo meglio qua mi piace secondo me è stupendo io vi dicevo appunto non non sono una che di solito si fa i regali anzi tendo sempre a farlo gli altri però invece in christian lie mi sto lanciando perché ci sono troppe cose belle e poi mi sono presa anche questo che era in super super offerta è vero che è bellissimo tina sì mi piace un sacco e anche questo è spettacolare secondo me ciao Samantha e questo qua è veramente bellissimo oltretutto vi dico anche che adesso non so quanto costava però io ne ho uno in pronta consegna volendo questo qua il mio però ce n'ho un altro perché ne ho presi due perché ne valeva troppo la pena e costa 15 questo qua costa 15 in argento anche questo qua è molto bello ne ho solo uno in più e poi devo controllare comunque volendo il primo che mi dice che lo vuole glielo glielo do uno solo e gli altri poi vediamo eventualmente se è ancora disponibile se qualcun altro vuole vediamo quanto viene e perché sinceramente ve l'ho detto non mi piace fare le dirette non preparate wow quanti cuori questa qua è carolina mitica una luce meravigliosa sì è vero è vero perché sbrillucica proprio ma anche l'anello infatti insieme ho fatto anche un video vabbè perché io mi insomma mi piace un sacco fare anche i video montarli forse dovevo fare la regista nella vita ho sbagliato lavoro non lo so no scherzo sono contentissima così le battute ci stanno ma e niente quindi mi facevo vedere queste cosine qua ve lo vedete una cosa molto flash perché mi deve arrivare un altro pacco però sarò in trasferta nel senso che vado da mia mamma qualche giorno che vabbè ha subito un'operazione al ginocchio ha fatto la protesi quindi lo prendi tu luisa giudicato va bene te lo tengo te lo tengo tranquilla poi ci vediamo tanto noi siamo vicine e dicevo che mia mamma appunto è una donna tosta che non vorrebbe che io la vada aiutare quindi se vede questa diretta sicuramente mi chiama e mi dice cosa stai dicendo mi arrangio perché è troppo tosta però ovviamente non esiste al mondo che non ci vado giusto siete d'accordo con me immagino quindi farò una diretta da cairo montenotte penso perché mi sono fatto arrivare il pacco la e poi vi volevo dire un'altra cosa adesso questo qua ho preso anche che ne ho anche di questi ne ho qualcuno in più e costa 7 95 in super offerte perché costerebbe 22 95 se non sbaglio mi sembra che ne ho tre o quattro di questi scusate la mia poca preparazione odio fare queste cose ma faccio bene luisa per forza è giusto loro i genitori si prendono cura di noi tutta la vita voglio dire gli orecchini brava si anche gli orecchini ne ho solo uno è oggi però guardate molto bello anche questo qua in argento poi oltretutto sono molto comodi perché dietro non hanno hanno la bacchettina che va dritta dietro l'orecchio no fa così tipo e quindi non dà per niente fastidio lo tengo anche per dormire è molto bello poi vi faccio vedere di nuovo questi che sono simili a questi qua grazie carolina per lo spunto perché anche quello mi sono fatto un regalo anche degli orecchini quest'anno questo mese ce l'ho con l'anno oggi come dicevo che questo mese appunto mi sono fatto un sacco di regali e vabbè ci stanno d'altronde carolina mi ero fissata un obiettivo e l'ho raggiunta hai visto sono stata brava sto mese sono contenta e niente vi facevo vedere appunto questo qua è da uomo e c'è un profumo e un gel ciao donatella benvenuta grazie che sei venuta in diretta e questo qua appunto tutte e due insieme in questa confezione 7 95 oltretutto se mi abitate vicino che prendete la roba da me a me piace fare i pacchettini ve la lancio lì infatti mi sono dimenticata poi di di condividervi delle foto che avevo fatto proprio un pacchetto per una mia amica che ha fatto il regalo la nipotina quindi se dovesse capitare me lo potete dire ovviamente senza costi aggiuntivi lo faccio proprio perché mi piace mi sembra molto carino anche vi faccio il pacchetto regalo e niente questo poi è molto buono ne ho aperto uno perché uno era per mio marito e il profumo è buonissimo veramente il gel lo deve ancora provare però per lui e per lei c'è anche per lei sì sì è vero c'è anche per lei questo profumo infatti io lo sto consumando il mio gli sto dando proprio fondo perché mi piace tantissimo e io non solo una che solitamente usa profumi il per lei è mio è vero carolina tu sei super con questi profumi allora poi vi faccio vedere questi orecchini qua che ve li ho già fatti vedere devo anche sbrigarmi perché viene buio ed è ora di cena e non vi voglio tenere più di un quarto d'ora anche se mi piace c'è cellare e questi qua sono di una mia amica e sono fatti come questo qua che ho dosso vedete sono un po più grossi il mio c'ha le stelline questo qua un goccino più grande gli hanno gli zirconi e come vedete vedete dietro come rimane e non dà per niente fastidio quindi sono proprio belli oltretutto io non avevo mai scusate non so se da tanto che ci sono nel mercato ma io non li avevo mai visti li ho visti solo qua in christian lie ora sono sicuramente una novità della moda e sono proprio belli 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 si rendono un sacco e cosa vi volevo dire poi a vi volevo dire che questo mese vi arriverà un bellissimo regalo se fate un ordine a casa vostra perché nel quarantesimo anno la christian lie non poteva non fare un regalo bello e adesso invece a me mi è arrivato in questo ordine qua a questa quella tua catenina luisa te la tengo vedi sì carolina dice vestono l'orecchio sono di ultima tendenza christian lie si distingue sempre invece questa è tina è vero avete ragione io non ho mai visto ho lavorato in altre aziende non mi è mai capitato una cosa del genere in tutti i pacchi trovi un regalo e adesso mi è arrivata la questa qua qua me la sono preparata però sapete che io leggo sempre al carbone vegetale camomilla è una maschera che si applica si lascia 15 minuti si fa asciugare poi si toglie sono quelle che sia e si tolgono e come un velo no e purifica allevia e da alla pelle scusate ho scritto da cani un aspetto luminoso e sano scritto male perché ho scritto veloce ma ci tenevo a dirvi almeno qualche informazione insomma un minimo un minimo di sapere qualcosa e sapete che non ho memoria ve lo dico sempre però mi scrivo tutto invece questa qua anche mi è arrivato questi due mi sono arrivati in regalo questo qua è la pro light che è una crema antimacchia con protezione 20 e è una linea appositamente appunto creata per le macchie della pelle vanno a schiarirle laddove ce l'abbiamo e ad evitare ovviamente la formazione di nuove e appunto dice che ferma anche la perdita di idratazione e ha una consistenza leggera quindi comunque sia in ogni pacco come vi dico sempre c'è sempre un regalino e questo mese a maggior ragione ne hanno fatto uno anche anche più grande della linea che io adoro quella body and spirit mi piace tantissimo e quindi se se farete un ordine che vi arriverà a casa da voi e otterrete anche questo omaggio oltre al 25 per cento di sconto vi ricordo che avete se vi arrivano i pacchi a casa ciao silvana piacere di averti qua ciao ciao laura ciao benvenuta allora carolina dice che è ottima anche per i ragazzi applicate nella zona t come dei cerottini assi la balla maschera vero sì hai ragione anche per uomo e a volte non consideriamo ma anche loro anzi ormai gli uomini si curano più delle donne non so se siete d'accordo con me ma io ho notato questa tendenza qua e dice il naturlai natural ai scusate 83 per cento di origine vegetale grazie grazie per questi per queste cose in più diciamo che mi mi dai spunti perché io sono stanchissima e come vi ho detto poco preparate stasera bianca piacere di averti qua e donatella è una mia collega che troppo carina anche lei sono troppo carine le colleghe della christian lai non le cambierei con niente al mondo ve lo dico perché io non ho mai trovato un gruppo così unito a eccola qua ciao ciao michaela benvenuta sì ci supportiamo a vicenda e lo dicevo anche oggi con una persona appunto dell'azienda e che quello che mi colpisce di più in christian lai che anche se siamo sparse per tutta italia e anche in altri stati a volte ci supportiamo a vicenda con le foto anche con i nostri scatti video è una cosa bellissima perché non c'è divisione non c'è divisione per niente ciao sonia benvenuta e sono proprio contenta stasera di aver fatto questa diretta perché ero indecisa perché vista l'ora visto tutto però ci tenevo proprio perché se non lo faccio poi va a finire che io do via le cose poi non ve le faccio neanche vedere invece insomma ci tengo mi dispiace che non ho tanta roba perché mi devono arrivare altre altre cose però insomma abbiamo fatto un video l'altro giorno abbiamo fatto una diretta insieme che è durata 44 minuti ragazzi quindi insomma penso che ne avete quasi la nausea di avermi qua e io mi sono messa qua e c'è abbastanza freddino ora mi ritiro la roba che sarà già mezza umida però ci tenevo prima a fare questa diretta stasera e niente io vi ringrazio tutte e se mi volete chiedere qualcosa come al solito sono qua sono qua per voi nel senso che vedete che mi fa proprio piacere è stare anche in diretta e anche ricevere le vostre domande anche senza appunto impegno come dico sempre il catalogo ve lo faccio vedere in un video a parte ok perché se no vi tengo qua veramente tanto avevo detto un quarto d'ora e diciamo che sono nei tempi stavolta grazie donatella anche a tina siete tanto carine grazie carolina sì avete sì è veramente sicuramente è stato un percorso perché avere una squadra unita e non è facile però io penso che se iniziamo ognuno a fare appunto la propria parte come stiamo facendo che ci seguiamo a vicenda ci supportiamo e tutto è sempre una non può che andare sempre meglio ecco sono sono proprio contenta di questo è veramente allora vi ringrazio tutte ora vi lascio perché se no alla fine invece che un quarto d'ora vi tengo sei anni come il mio solito però grazie di cuore davvero che siete venuti in diretta e se per caso vedete questa diretta e volete essere invitata alla prossima mi scrivete un messaggio così me lo scrivo e non mi dimentico di voi ok grazie di cuore a tutti una buona serata ciao grazie mille